Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. In questo video torniamo a parlare di smartphone e più in particolare di foto fatte con lo smartphone, o meglio, come fare belle foto con lo smartphone. Nel video precedente ci siamo già detti alcune cose, oggi le approfondiamo e vediamo se riusciamo effettivamente a migliorare. Ho scattato alcune fotografie, alcune all'aperto in occasione di una bella giornata, altre oggi all'albero di Natale, dato che il sole oggi non c'è. Le ho riportate tutte quante sul computer e quindi ora le vediamo e ci rendiamo conto delle differenze tra l'una e l'altra e di quali opzioni di scatto abbiamo utilizzato. Innanzitutto il formato, la dimensione delle foto. Ne abbiamo parlato nel video precedente, ci siamo detti che, dato che le foto le guardo principalmente sul computer o su televisori, che hanno un formato 16 noni, mi conviene utilizzare il formato 16 noni innanzitutto e scattare foto orizzontali, tant'è che vediamo questa immagine o questa immagine orizzontale e stretta. Se vado ad aprirla, clicco due volte sull'immagine, la ingrandisco a tutto schermo, questa riempie perfettamente lo schermo del mio smartphone perché è stata scattata con un formato 16 noni. Questo, tanto per capirci, quindi vediamolo direttamente sullo smartphone, che è qui. Eccolo qui, apro l'app foto, vado nelle impostazioni della mia applicazione e qui abbiamo visto che ci sono i formati. 9 sedicesimi, 16 noni, 3 quarti, 4 terzi e 1 a 1 invece foto quadrata. Allora, questa immagine è stata scattata con il 16 noni e vediamo che il risultato è questo. Questa immagine invece è stata scattata a 4 terzi, quindi se io ingrandisco questa foto e la ingrandisco a tutto schermo, questa lascia degli spazi bianchi o neri dalle parti perché è stata scattata con un formato più tradizionale, tradizionale per le macchine fotografiche digitali, più simile a quello delle macchine fotografiche analogiche, quelle precedenti, però riempie meno lo schermo del mio computer e quindi devo convivere con queste barre laterali. Benissimo. Altre differenze che possiamo vedere nelle nostre foto sono queste. Una foto scattata in verticale, in questo caso per esigenze di soggetto, ovviamente questo soggetto era verticale e quindi l'immagine sta meglio, è più bella, se scattata in verticale, vista su computer, vista su televisore, fa questo effetto, stretta e alta e quindi non è che sia particolarmente bella da vedere a computer. A questo punto, dovendo scattare un'immagine verticale, potrebbe essere più saggio cambiare il formato. Guardiamo queste due foto, queste due foto dell'albero di Natale. Questa è stata scattata a 16 noni, quindi il formato che permette di riempire di più lo schermo. Questa invece è stata scattata a 4 terzi, quindi il formato più largo e più basso. Se noi ingrandiamo queste due immagini, andiamo ad ingrandirle, una è questa e una è questa, ovviamente, essendo in verticale, è meglio quella più larga. Quella più larga è più bella. Andiamo ad ingrandirla del tutto, eccola qui, e andiamo ad ingrandire del tutto l'altra. Eccola qui. Ecco, in questo caso, scattando foto verticali, il 16 noni mi appaga meno nella visualizzazione a schermo televisivo o a schermo computer, perché comunque l'immagine risulta essere più stretta e lunga e quindi ci sono più bande bianche. Per cui, per le verticali, se volessi essere pignolo, mi converrebbe cambiare formato dell'immagine. Ok, torniamo a vedere cos'altro abbiamo fatto. Poi, ogni immagine ha un nome. I, M, G, 20, 20, 12, 14 e tutti questi numeri. Che cos'è questo numero? Questo numero è un modo che ha il mio cellulare di chiamare l'immagine e, in genere, ho notato sul mio cellulare, probabilmente sarà così anche sul tuo, magari me lo direi nei commenti, questo numero è una data. Se guardiamo e proviamo a cercare di leggerlo bene, 14, 12, 2020, ovvero 14 dicembre 2020, ore 13, 3 minuti e 22 secondi. Se guardiamo le foto che ho scattato oggi, 17, 12, 2020, ore 10, 35 minuti e 51 secondi. Quindi ogni foto ha riportato nel nome l'ora esatta e la data esatta in cui è stata scattata. In questo modo le immagini, i file, hanno nomi differenti che è necessario perché vengano registrati e io posso anche vedere quando sono state scattate. Ok, questa immagine ha una dimensione di 14,5 MB, dimensioni registrate sul computer, sullo smartphone, quindi dimensioni del file, 14,5 MB. Questa immagine verticale, ma dello stesso formato, della stessa dimensione, ha invece una dimensione di 6,58 MB. Perché meno? Perché questa immagine è più piccola, è stata scattata ad una risoluzione più bassa, tant'è che le dimensioni leggiamo essere 3000x4000, mentre invece questa immagine è una 8000x6000. Se io le guardo a schermo del computer, non noto alcuna differenza, ma se io vado a stamparle o se io le utilizzo ingrandite, questa scattata a una risoluzione più alta risulterà essere più bella, più definita, migliore, e sarà possibile ingrandirla senza una perdita di qualità. Quindi, attenzione a quando scattiamo a gestire la qualità delle foto. Questa cosa della qualità non è di tutti i telefoni, ma solo di alcuni. Nel mio caso, il mio telefono, che è un Redmi Note 7, ha questa funzionalità 48MP, 48MP, si chiama, che trovo qui, l'abbiamo visto sempre nel video precedente, su Altro e poi 48MP. Impostando il 48MP scatta foto di formato tradizionale, tra virgolette, ma di una qualità molto più alta. Ovvio che queste immagini occupano più spazio, ma la qualità è sempre preferibile, quindi se posso scatto sempre ad alta qualità. Ok, chiudo il 48MP e vediamo cos'altro si può dire sulle nostre immagini. Prendiamo questa foto, vado ad ingrandirla, ingrandiamola di nuovo, eccola qua. Questa immagine è stata scattata col mio smartphone, ha avuto un'esposizione automatica, cosa vuol dire? Mi sono messo lì, ho scattato, e lo smartphone ha guardato da solo quanta luce c'era in quella posizione, in quel momento della giornata, e ha regolato la luminosità della foto automaticamente, che è una cosa preferibile, stiamo usando lo smartphone in modalità automatica. Ha anche effettuato una messa a fuoco automatica, cioè ha guardato il soggetto, in questo caso un panorama, l'albero, eccetera, e ha regolato il fuoco dell'immagine per far sì che questa immagine si veda bene e non sia sfocata. Quindi tutto quanto in automatico, tutto bene, perfetto. Luminosità, quindi esposizione e messa a fuoco ci interesseranno particolarmente tra qualche istante. Ora mi interessa vedere l'inquadratura. In questa inquadratura ho commesso un paio di errori, errori che commetto spesso. Quali sono? Innanzitutto la linea di orizzonte. Questa immagine ha un orizzonte un po' storto. Se noi guardiamo la linea dell'orizzonte del lago è un po' storto. Vuol dire che quando io ho scattato non ho fatto attenzione a tenere lo smartphone diritto e quindi ho ottenuto questo risultato. Avrei potuto farmi dire dallo smartphone se l'orizzonte era diritto oppure no? Sì, avrei potuto attivando un'opzione della mia app fotografica che è questa. Quindi vado a riprendere lo smartphone, vado sulle tre righine e scelgo questo. Raddrizza. Premo Raddrizza ed ecco che ora ho la linea dell'orizzonte. Vuol dire che il mio smartphone mi dice se è tenuto in posizione orizzontale rispetto al terreno, quindi rispetto alla terra per capirci. E quindi, a seconda di come io tengo il telefono, mi dice se devo girarlo da un'altra parte oppure no. Quando è arancione sono perfettamente centrato. Certo, se voglio scattare la foto in orizzontale ecco che ho di nuovo la linea. Ora, noi vediamo la linea verticale in questa immagine del computer ma io sul mio smartphone la vedo orizzontale al terreno perché ho il telefono in orizzontale e quindi vedo la linea perfettamente a posto. Quindi, questa linea mi aiuta a capire se io sto tenendo lo smartphone correttamente per fare una foto come si deve. E ho quindi utilizzato questo Raddrizza. Mi sono dimenticato di togliere le opzioni facendo un click all'interno dello smartphone. Eccomi qua. Quindi ora ho l'immagine. Adesso il mio smartphone non mostra nulla perché c'è la copertura che blocca l'obiettivo e quindi lo schermo resta nero ma se io sono davanti a un panorama vedo il panorama con in mezzo la riga e posso gestirne la posizione tenendo lo smartphone nella posizione adeguata. Ok. Un altro errore che ho fatto in questa foto andiamo a vedere questa foto è sempre relativo all'orizzonte vediamo se riusciamo ad ingrandirla ed è questa. L'orizzonte centrale non è bello non è preferibile tenere un orizzonte centrale quando si scatta una foto. Conviene tenerlo o in alto o in basso a seconda che si voglia dare importanza al cielo oppure a quanto c'è a terra. Generalmente si tiene un orizzonte centrale quando c'è un soggetto specchiato specchiato nell'acqua ad esempio quindi parte del soggetto è sopra e parte del soggetto è sotto. Diversamente l'orizzonte in mezzo non rende le foto particolarmente belle quindi bisogna gestirne la posizione. Come avrei fatto a poter gestire questa cosa? Avrei potuto attivare una griglia che mi permette di capire la posizione dell'orizzonte e comunque mi dà una visione squadrata tra virgolette con delle guide della mia composizione dell'immagine. Vado ad attivare questa opzione per cui vado sul mio smartphone eccoci qua vado sulle tre righine spengo il raddrizza potrei tenerlo acceso ma non voglio fare confusione in questo momento lo spengo e vado ad attivare le linee guida premo ed ecco che ho attivato le linee guida. Ora voglio vedere questa cosa applicata al telefono per cui adesso andiamo a vederlo sul telefono per cui prendo l'immagine eccoci qua ingrandita e facciamo finta di essere davanti ad un orizzonte quindi prendo il mio telefono eccomi qua col telefono attivo l'app macchina fotografica ed ecco che sono davanti diciamo al mio orizzonte davanti alla mia immagine sto ovviamente inquadrando lo schermo del computer con il telefono ma facciamo finta di essere sul posto così l'orizzonte è centrale non è bello sarebbe stato meglio che io avessi inquadrato in questo modo magari tolgo la freccia del mouse così sembra più vero sarebbe stato meglio dicevo che io avessi inquadrato in questo modo per dare importanza al lago o che io avessi inquadrato in questo modo per dare importanza al cielo ovviamente poi c'è anche l'inquadratura orizzontale da gestire e nel fare questo avrei dovuto gestire la posizione dell'orizzonte andiamo ad attivarla quindi vado sui tre sulle tre righine attivo anche la linea del raddrizza l'orizzonte per cui premo raddrizza ed ecco che ora ho la linea gialla e quando scatto la foto posso capire se sono orizzontale se sono parallelo al terreno oppure no quando sono in posizione giusta riesco a scattarlo ovviamente adesso se sovrappongo la mia linea all'orizzonte qui è sbagliata perché di fatto la mia foto è storta quindi è storta a computer e di conseguenza non è precisa ma quando io devo scattare un'immagine posso sovrapporre la linea di raddrizza all'orizzonte per rendermi conto se sono giusto oppure no e quindi vado a farla collimare con l'orizzonte e quindi in questo modo sono certo di avere una foto diritta però ovviamente devo scegliere il tipo di inquadratura benissimo andiamo a vedere cos'altro abbiamo fatto col nostro smartphone ho fatto queste foto quindi rimpicciolisco questa anzi la chiudo e vado a prenderne altre questa è sempre lei e torno a chiudere tutto vado quindi in esplora file eccole qua allora queste due immagini questa che è una e questa che è un'altra immagine andiamo ad ingrandirle quindi questa la rimpiccioliamo questa la agganciamo di qui e questa la ingrandiamo dall'altra parte due immagini dello stesso soggetto in cui nello scatto è stata cambiata l'esposizione quindi la luminosità questa immagine è in generale più scura questa immagine invece è in generale più chiara e in cui è stata cambiata la messa a fuoco in questa immagine è a fuoco il lago la bandiera e quant'altro e questo oggetto molto vicino alla macchina fotografica non poteva essere a fuoco anche lui perché le distanze erano troppo grandi tra l'oggetto bandiera e l'oggetto cartello e quindi l'oggetto bandiera è a fuoco l'oggetto cartello no mentre invece in questa immagine si è scelto di dare importanza al cartello all'oggetto cartello quindi ho messo a fuoco il cartello a scapito del resto ottenendo questo effetto di sfocatura che a volte è proprio ricercato e quindi vediamo come abbiamo fatto ad ottenere questa cosa ho ottenuto questa cosa anche con l'albero di Natale quindi adesso vedremo fisicamente come fare andiamo a vedere il nostro albero di Natale le due foto in questione sono queste una e due andiamo sempre ad ingrandirle quindi una la mettiamo qui e una la mettiamo qua ecco qua anche in queste immagini illuminazione diversa questa più scura questa più chiara e punto focale diverso qui abbiamo a fuoco questa pallina qui abbiamo a fuoco questo rametto e quindi immagini diverse ok ho registrato un video mentre facevo questa cosa così cerchiamo di capire come funziona il tutto andiamo a vedere il video eccolo qua quindi innanzitutto sono partito scattando una foto la prima foto l'ho scattata in 16 noni successivamente ho cambiato il formato per averla più larga a quello che abbiamo visto prima quindi faccio procedere il video ecco che parte qui ho scattato la prima immagine stretta e alta sono andato a regolare dai tre pallini e poi da qui il formato e in questo modo ho potuto scattare una foto verticale ma più larga e bassa che si adatta meglio allo schermo ok questa è una cosa questa cosa che ho fatto qui invece in questo momento è lo zoom vuol dire che io ho posato le dita sullo smartphone e le ho allargate come facciamo per ingrandire qualcosa nello schermo quindi ho fatto uno zoom per avvicinarmi all'albero invece di andare a mano più vicino all'albero perché in alcune circostanze magari non è possibile ho zoomato per allargarlo ottenendo uno zoom di 3.2x cioè l'immagine è stata ingrandita tre volte e qualcosa in questo caso tengo una foto con un'immagine con un particolare più in grande ma una foto che avrà una qualità minore perché lo zoom digitale dei nostri telefonini viene ottenuto ingrandendo i singoli puntini che compongono l'immagine i pixel e quindi puntini più grandi che compongono l'immagine vuol dire puntini più visibili ad occhio nudo per cui l'immagine perde di qualità per cui lo zoom si fa solo in situazioni particolari andiamo avanti così vediamo quando ho scattato la foto ecco che ho inquadrato questa papera e poi l'ho fotografata perfetto scattata poi ho riportato lo zoom indietro a 1x cioè alle dimensioni normali a questo punto ho riportato il formato a 16 noni perché desideravo scattare una foto orizzontale e poi ho girato il mio smartphone e ho ottenuto altri scatti che adesso andiamo a vedere in questo momento decido quale illuminazione quale esposizione ottenere e il punto focale dell'immagine come prima cosa decido di fotografare questo rametto che al momento è sfocato non è bello da vedere perché non è a fuoco per cui per metterlo a fuoco lo tocco poso il dito direttamente sul rametto toccando lo schermo ora lo vediamo ecco in questo istante io ho posato il dito sul rametto mi è apparso questo cerchio e mi è apparsa una scritta che mi dice messa a fuoco automatica ed esposizione automatica bloccata perché io ho premuto in quella posizione sul mio smartphone e ho tenuto il dito in posizione in quel modo ho bloccato la messa a fuoco e l'esposizione abbiamo visto che l'immagine è diventata più chiara perché questo rametto è un po' scuro quindi il telefono ha pensato che ci fosse bisogno di maggiore luce ma questo fa sì che tutta l'immagine sia più illuminata proprio perché il rametto fa parte dell'immagine in questo caso e viene messo a fuoco avendolo bloccato tenendo premuto per un attimo in quella posizione questo pallino è diventato giallo vediamo se lo vediamo ingiallire eccolo qua questo pallino è diventato giallo dicevo ora è andato in avanti eccolo qua questo pallino è diventato giallo e c'è un lucchetto che sta dicendo che l'esposizione è bloccata perché blocco l'esposizione e la messa a fuoco perché una volta che ho deciso che quel rametto è il mio oggetto principale potrei dover regolare un po' meglio la posizione del telefono spostarmi un pochino avendo già bloccato il fuoco e l'esposizione in quella posizione posso farlo senza dover tornare nuovamente a premere sul telefono per fissarlo se non avessi voluto fissarlo avrei potuto semplicemente dare un colpetto leggero il telefono metteva a fuoco il rametto regolava l'esposizione ma non la bloccava e quindi scattavo subito dopo la foto ok ora ho scattato la foto e poi sono passato ad altro quindi faccio riproduci foto scattata ora toccherò la pallina ecco fatto in questo momento io ho toccato la pallina col dito sempre sullo schermo è uscito questo cerchio che mi sta a dire che ora il telefono ha regolato l'esposizione per la pallina tant'è che tutta l'immagine è diventata più scura dato che la pallina era già più luminosa rispetto al rametto quindi il resto dell'immagine si adegua alla luminosità necessaria per la pallina e la pallina è stata messa a fuoco in questo modo si vede bene la pallina ciò che le sta vicino ma il rametto che è molto più distante come distanza focale rispetto alla pallina è molto più vicino alla macchina fotografica risulta essere invece sfocato ok a questo punto ho scattato di nuovo la foto per cui andiamo avanti e ho scattato di nuovo la fotografia bene mi auguro che questo video ti sia stato utile ti sia piaciuto in quel caso premi su mi piace iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto attivando la campanella così sarai avvisato all'uscita del prossimo video e ora puoi anche abbonarti al canale Associazione Maggiolina e vedere sempre qui su youtube i video della serie speciale riservata agli abbonati ci vediamo presto ciao ciao Grazie a tutti.